Radio Radicale, siamo in collegamento con Giancarlo Lener, autore di un pamphlet su Papa Francesco, dal titolo Papa Francesco da Cristo a Castro, che è un libro molto polemico nei confronti dell'attuale pontefice. Noi ci siamo rivolti a Giancarlo Lener per commentare un po' l'uscita di Papa Francesco sulla guerra russa-Ucraina. Il Papa, subito dopo smentito dalla sala stampa del Vaticano, ha detto che l'Ucraina deve alzare bandiera bianca e deve negoziare la pace. Allora, questa cosa ha aperto un fronte di polemica sconfinato nei confronti della Santa Sede, della diplomazia del Vaticano. Figuriamoci, per esempio, pensiamo soltanto che cosa avrebbe potuto provocare un'uscita di Pio XII durante la battaglia di Inghilterra, rivolgendosi a Regno Unito e dicendo che la Gran Bretagna deve alzare bandiera bianca nei confronti di Adolf Hitler. Tanto questo è solo un esempio. Allora, Giancarlo Lener, che impressione hai? Beh, intanto c'è un fatto proprio sull'essico, perché il Papa parla di coraggio di alzare bandiera bianca, ora in genere non sono i coraggiosi che si arrendono, quindi anche questo è un paradosso. No, niente, Bergoglio è un aquilone, va a vento, ha capito che c'è una certa stanchezza riguardo a questa guerra e quindi in qualche modo sposa appunto che si arriva alla fine con la conquista russa di territorio ucraino e quindi allora di fatto con la sconfitta di questo popolo. Il fatto straordinario è che questo Papa è talmente fiorusso che subito la Zakharova, che è una importante portavoce di Putin, ha subito detto Il Papa chiede all'Occidente di mettere da parte le sue ambizioni e ammettere che si è sbagliato. Quindi è come se ci fosse un ping pong tra Bergoglio e Putin. Ma questa filosofia politica filorussa è comunque antica perché quando i russi hanno aggredito e invaso il territorio ucraino allora Bergoglio avrebbe potuto starsi zitto anche perché vorrebbe pensare più a cose spirituali che alla politica ma comunque è intervenuto con una affermazione incredibile dicendo che in qualche modo questi russi avevano una giustificazione perché c'era alle loro spalle questa Nato che abbagliava contro i russi. Ora io ho riportato naturalmente anche all'interno del mio saggio questa cosa perché è assolutamente abnorme talmente abnorme che anche i PC anni 50 che se c'era una battaglia fortissima sulla Nato contro la Nato eccetera eccetera mai aveva usato un termine talmente volgare tipo abbagliare sui russi. Insisto, siamo davanti a un personaggio che spesso straparla e soprattutto non parla quasi mai come il pontefice. Questo è il fatto più grave. Noi siamo davanti a un personaggio politico assolutamente politico che ha le sue idee, le sue fissazioni. Io ricordo con orrore quando a Parigi c'è stato quell'attentato a una rivista di Satira un attentato islamico, ci furono 12 morti e 11 feriti al Charlie Hebdo E questo Papa disse qualcosa di abnorme, disse se qualcuno viene a parlare male di mia madre io gli do un pugno. Lui in qualche modo giustificò anche quei 12 morti che erano poi il segno dell'illiberalità islamica. Nel senso si fa salvera su tutti, si fa salvera pure sul Papa, infatti anche io l'ho fatta. Però su Maometto non si può altrimenti muore. E lui e il Papa arrivò a dire per l'appunto che era in qualche modo giusto perché avevano offeso la mamma ma in realtà era Maometto. Ecco qua, quindi è un personaggio secondo me deleterio, inquietante, molto inquietante. Dunque, secondo te in Vaticano non l'hanno presa bene? Cioè, perché io per esempio non mi ricordo mai che di fronte a un'affermazione così chiara del Papa la sala stampa, l'ufficio stampa, adesso non so come si chiama, arrivasse a dire ma veramente avete capito male? Sì, abbiamo capito male, sì, infatti, lui ha detto chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, c'è poco da capire, no? Oddio, siamo in una stagione in cui c'è un grande straparlare. E' uscito quella professoressa alla sapienza che ricordando la morte di una terrorista, ha scritto la tua rivoluzione e la mia rivoluzione. Insomma, siamo in una stagione in cui c'è un grande straparlare, ecco. Ho capito. Ti ricordi un altro Papa che aveva fatto un'uscita così clamorosa su un conflitto, su una guerra, su un… non so… No, guarda, io per esempio ricordo che Giovanni Paolo II era contrario all'invasione USA in Iraq, no? Sì. Ma, tra l'altro, era contrario pure io, perché poi è stato un grande errore, secondo me. Anche Berlusconi, secondo me, era contrario. Sì, e usò però, Giovanni Paolo II, usò per l'appunto un lessico, insomma, da Papa, no? Parlando di spiritualità, di poi la gente che, insomma, moriva, di azioni crudeli, sbagliate, inutili, ma a memoria mia per la prima volta c'è un Papa che dice a un popolo aggredito arrenditi. Fra l'altro è anche sbagliato, perché questo popolo è molto orgoglioso, cioè è il popolo che non vuole arrendersi, non si tratta semplicemente di un esecutivo che si agguerra fondaglio, è il popolo ucraino, no? Che assolutamente non vuole cedere. Certo. Anzi, direi che è fortemente antirusso. Certo. Se tu vai a parlare con un ucraino qualsiasi, anche a Roma, sentirai che c'è un antico odio verso i russi. Odio ricambiato, tra l'altro, no? Certo. Puoi dire qualcosa su come questa cosa… allora tu hai ricordato la Zakharova, come la propaganda russa utilizza questa cosa del Papa? Perché insomma adesso stanno prendendo gli italiani, hanno preso questo artista che si ha detto che poi Putin non è così cattivo, è arrivato il Papa che dice agli ucraini alzate bandiera bianca… insomma, qualche colpo questa propaganda russa lo sta raggiungendo? Sì, no, ma diciamo, c'è una scuola antica, insomma, se tu pensi che quando c'è stata l'Ulf hanno fatto credere al mondo, in Italia poi assolutamente troppe persone, che un giocatore sovietica è il saper la pace, io ricordo che erano nati anche in Italia i partigiani della pace che erano filosovietici, noi abbiamo avuto in Italia un pacifismo a senso unico, cioè dire se l'Unione Sovietica puntava i missili sull'Italia era una cosa normale, se andavamo noi a mettere i missili USA in Sicilia, allora abbiamo avuto cortejo, scusa, ricorderai? Certo, certo. Ecco, perché in Italia abbiamo avuto… perché attenzione, c'è un'arte bellissima propaganda che viene dall'Unione Sovietica, che è straordinaria, che è organizzatissima, però il punto è questo, io posso capire un giovane artista o un cantante che per mettere da parte qualche soldino a Mosca, far lodi a Putin, sono cose umane, sono debolezze umane, sono convenienze umane, ma il Papa, questo è il punto. Certo, senti, togliatti una cosa… Una cattiveria, a me pare un ministro ucraino alluce a una cattiveria, io fra l'altro non non so se sia vero o falso, insomma riporto questa affermazione che fece un ministro ucraino e disse che questo atteggiamento che è a Bergoglio di favore verso la Russia, forse si spiega con i finanziamenti russi allo Ior, non so se questa cosa la ricordi… No, non me la ricordavo, me la stai dicendo tu, poi andrò a vedere… Stai sul libro, stai sul mio libro, io credo che dietro ci sia, non i soldi Russia allo Ior, ma ci sia un odio antioccidentale, questo Papa è contro l'odio occidentale. L'ultima cosa, neanche Togliatti era arrivato a simili livelli? Ma giammai Togliatti, scherzi, abbagliamento, andare a dire che questo nato è un cane rabbioso che abbaglia sulla Russia, ma anche il lessico, Togliatti aveva un lessico più raffinato, diciamo, più culto, che invece si ama un lessico duro, pesante, tra l'altro incongruo, perché insisto, dire il coraggio di alzare bandiera bianca è un non senso, perché chi ha coraggio combatte, non alza bandiera bianca, c'è anche questa incongruità semantica proprio. Va bene, senti, io ti ringrazio molto della tua disponibilità, come sempre, grazie a Giancarlo Lener, autore di un bel libro su Papa Francesco, dal titolo Papa Francesco, da Cristo a Castro, che vi invitiamo a leggere, con il quale abbiamo... Bergoglio, 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 da Cristo a Castro, certo, scusami, ti ringrazio, con Lener abbiamo commentato appunto questo passaggio dell'intervento di Papa Francesco sull'Ucraina che deve alzare bandiera bianca, grazie. A te, grazie a te, grazie a te.